buongiorno a tutti e benvenuti al quinto episodio di che cos'è il rotaract per me oggi ho il piacere di avere come gradito ospite del mio canale youtube eselomb il mio caro amico mario franzin past president del rotaract club crotone per quest'anno sociale 2020 2021 delegato azione pubblico interesse per il distretto 2100 per la regione calabria allora caro mario che cosa il rotaract per te ciao stefano grazie mille per questa opportunità sono mario franzin past presidente del rotaract club crotone e quest'anno sono anche presidente della azione pubblico interesse per la calabria voglio rispondere subito alla tua domanda dicendo che per me il rotaract sta rappresentando veramente tanto in questi anni io ne faccio parte dal dicembre del 2016 ho avuto subito modo no di di mettermi in gioco in questa associazione essendo immediatamente coinvolto in un circuito virtuoso di azioni di service volte soprattutto a essere d'impatto comunitario per per la cittadinanza soprattutto condividendone i lavori i valori e soprattutto sposandone appieno i principi cardine credo che questo sia un aspetto determinante soprattutto penso che la voglia di fare la voglia di mettersi in gioco rivesta un ruolo centrale per poter svolgere un service rotaractiano al di sopra di ogni interesse personale come appunto ci diciamo sempre fra di noi e come diciamo anche ai nostri incontri è veramente come si dice non sembra una frase fatta ma in realtà non lo è una palestra di vita perché ti dà modo di scoprire tante cose che prima magari davi per assolato davi un po più per per sicuro un po ma anche un po scontate determinati valori che fosse sarebbe bene che tutti di scoprissima affinché veramente si possa costruire una società più equa una società più giusta credo che la condivisione di questi valori sia un qualcosa di veramente importante che arricchisca ognuno di noi soprattutto un percorso di formazione di leadership di formazione per capire anche quello che c'è dentro di noi è anche un viaggio all'interno di se stessi per capire anche i propri limiti a cercare di smussare determinati comportamenti determinati modi di essere determinati modi di fare che magari hanno inficiato determinate nostre azioni nel passato credo che la voglia di fare la voglia di mettersi in gioco sia un aspetto determinante il motore di tutto di tutto ciò che noi condividiamo e viviamo ma anche la interrelazione tra tra noi stessi conoscendo nuove persone mettendoci in gioco mettendoci anche a nudo delle nostre emozioni delle nostre sensazioni dei nostri pensieri tutto ciò va a convogliare in un unico in un unicum in un unico grande nucleo che appunto la condivisione della famiglia rotarattiana quindi posso dire anche per gli anni a venire che è un percorso che anche alla formazione lavorativa no perché comunque siamo giovani siamo ragazzi che stiamo terminando gli studi ci stiamo affrontando anche all'ambito lavorativo sono delle coincidenze perfette per poter crescere e poterci incanalare anche al meglio delle nostre attitudini professionali e e non solo essere anche noi stessi portatori di valori non solo all'interno dell'associazione ma anche all'esterno far vedere di essere rotarattiani nel vero senso della parola ed essere anche un'ispirazione ed essere un punto di riferimento questo l'ho potuto apprendere in questi anni svolgendo anche l'incarico della presidenza di club che ha lasciato veramente tanto a livello di conoscenze e soprattutto a farmi ha fatto comprendere che la forza del gruppo vince sempre vince tutto su ogni cosa e che comunque tante conoscenze tante paure alla fine così come anche appunto le paure vengono vengono meno se si è forte e soprattutto si capisce di avere grandi capacità delle capacità anche relazionali che diventano anche capacità affettive nella costruzione dei rapporti credo che per i prossimi anni queste queste parole che sto dicendo debbano essere davvero il faro d'azione soprattutto la voglia di fare la voglia di essere protagonisti nel vero senso della parola la voglia di servire questa associazione debba essere davvero un qualcosa di fondamentale affinché appunto ai rotaratt diventi sempre più forte in un momento in cui la crisi dell'associazionismo è palese anche per via della distanza che questo covid ci sta facendo vivere invece all'altra domanda per quanto riguarda dei progetti che mi sono particolarmente piaciuti posso dire di non averne uno specifico perché la progettualità rotarattiana è una progettualità ampia una progettualità sempre mista e variegata e ogni progetto costituisce una storia a sé e costituisce lasciò qualcosa all'interno di me e all'interno di tutti quanti noi quindi non ce n'è uno specifico ma solamente la voglia di fare service di veramente costruire mettendo in campo idee sempre vincenti idee valide col confronto con la voglia anche no di essere un punto fondamentale in mezzo a tanti che vogliono costruire anche un futuro migliore per le proprie comunità e non solo essere un faro per le nuove generazioni detto ciò io stefano ti ringrazio ancora per questa disponibilità ti saluto ti mando un abbraccio e lo estendo a tutti coloro che guarderanno questo video e aspetto insomma ti verrà dopo di me in questa in questa bella iniziativa grazie Mario è stato davvero un piacere ascoltare le tue parole e la tua testimonianza di che cos'è il rotaract per te ti ringrazio per aver partecipato a questo progetto ricordo a tutti voi che questo è un progetto che ha un duplice scopo non solo quello di parlare della nostra splendida associazione quindi del rotario del rotaract quindi ascoltando le parole di tanti soci sparsi per il mondo innamorati di questa nostra grande famiglia ma soprattutto ha uno scopo benefico cioè appena raggiungeremo il numero minimo di visualizzazioni dei video presenti nel mio canale youtube sarà attivata la monetizzazione che permetterà di raccogliere fondi in maniera del tutto gratuita a favore della Rotary Foundation che è una fondazione internazionale che da ormai tantissimi anni finanzia progetti in tutto il mondo quindi se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al mio canale youtube eselomb e a visualizzare i video presenti nel mio canale e a condividere questi splendidi video con tutti i vostri amici rotariani, rotaractiani e non per far sì che anche loro possano sapere quanto e possano conoscere le bellezze della nostra associazione un abbraccio e al prossimo video grazie a tutti